Buonasera, benvenuti a otto e mezzo, buonasera, benvenuto Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, buonasera, bentornato Beppe Severnini, direttore dei set del Corriere della Sera. Oggi Di Maio ha presentato la squadra dei candidati dei 5 Stelle che lui stesso ha definito una squadra dei super competenti, ma perché l'accusa di essere incompetente è quella che vi ha fatto più male di tutte? Sicuramente la presentazione di 50 nomi che sono eccellenze dei loro settori come ricercatori del CNR, professori universitari, criminologi, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ricercatori delle università anche straniere, è un modo per dire che noi vogliamo mettere le migliori energie di questo Paese a servizio dell'Italia per fare quelle cose che aspettiamo da 30 anni e che non si fanno. Poi gli altri ci accuseranno di essere incompetenti, ma dopo oggi credo che sia abbastanza difficile riuscire a dire che siamo non competenti. Queste super competenze le chiamo così perché è gente che ci mette testa ma anche cuore nelle cose che si devono fare. Testa e anche cuore, la fermo perché andiamo subito in pubblicità. Onorevole Di Maio, oggi lei ha presentato la squadra dei super competenti, come le ha chiamate, una cinquantina di persone che non hanno partecipato alle vostre parlamentarie e che ha scelto lei. Come le ha selezionate? Io ho fatto un appello pubblico qualche settimana fa e ho detto che il Movimento 5 Stelle triplicherà il numero di parlamentari. Invece di fare come tutti gli altri che si scendono in loro da mettere dentro, ho aperto questi collegi uninominali che sono un terzo del Parlamento sostanzialmente, si deciderà un terzo del Parlamento dei collegi uninominali, ha tutte le migliori energie e entusiasmi e voglia di fare di questo Paese. Io ho detto noi vogliamo darvi un'opportunità di lavorare insieme e finalmente cambiare l'Italia, dal gruppo parlamentare ma anche dal governo. Hanno risposto in tanti, hanno risposto anche... Dei vari settori, no? Dei vari settori, ma le dico, ci sono persone che vengono dal mondo dell'università, dal mondo dell'imprenditoria, ci sono eccellenze che vengono dal mondo della cardiochirurgia, dal mondo della medicina. Si sono fatte avanti persone che vengono anche dal mondo dell'atletica, medaglia d'oro a Sydney, medaglia d'oro nel judo, medaglia d'oro come fioravanti nel nuoto, persone che si sono distinte per la loro storia e portano quella storia non nel movimento, ma nelle istituzioni italiane, anche se mi posso permettere, persone che sono state sempre leali con lo Stato. Tra queste ci sono anche dei delusi, ci sono dei delusi dei vecchi partiti, persone che votavano per Renzi o per Berlusconi, che a un certo punto siccome li hanno conosciuti hanno iniziato ad evitarli. Beppe Severnini, con questa squadra dei super competenti, il Movimento 5 Stelle sta in qualche modo cambiando pelle e in che cosa è diverso il movimento di Di Maio da quello di Grillo? Secondo me il movimento di Di Maio e quello di Grillo sono sempre un Movimento 5 Stelle, l'ho detto anche settimana scorsa qui da te, ma non c'è dubbio che stanno cambiando pelle, io sono contento, credo che un movimento di protesta, e guardi che non è un insulto, un movimento di protesta in una democrazia è vitale, perché se uno vuole protestare deve trovare una forza politica che lo aiuti a protestare, non picchiarsi per strada, quindi avete fatto il vostro compito. Adesso sono i probabili vincitori o comunque dovrebbero cavarsela molto bene, è chiaro che hanno capito che devono passare alla fase successiva e questo secondo me è un'ottima cosa. E come la chiamiamo questa fase successiva? Possiamo chiamarla fase Di Maio, visto che c'è qua lui, però posso dire occhio a due cose, però mi sembra che è intelligente, lo capisco, primo, voi siete visti come i probabili vincitori, quindi il salto sul carro dei vincitori è una specialità italiana, vinceremo, tu l'hai parlato di medaglie olimpiche, in questa specialità vinceremo oro, Argenzo e bronzo tutte le volte, quindi voi avrete persone, lei non può saperlo, qualcuno che ha detto vincono questi, è successo a Berlusconi, è successo alla Lega, è successo in parte al PD, cioè c'è gente che quando vede un vincitore si butta primo, secondo, fate in modo che queste persone lavorino in Parlamento. Devo dire, guardando i loro nomi, che loro sono meno a rischio di altri, faccio un nome non vostro, io non riesco a capire come si può candidare, non se non ce l'abbia con me, il Presidente della Lazio Lottito, ma quanto tempo ha di andare in Parlamento? E le liste, soprattutto di Forza Italia, ci sono questi, devo dire, lui presente, che tra loro mi sembra che queste persone vogliano farlo, cosa faranno? Parlo dopo. Adesso entriamo anche in questi dettagli, ma Di Maio, intanto le voglio chiedere se per cautelarsi rispetto al rischio che qualcuno salta sul carro dei vincitori, poi magari cambia casacca, eccetera, eccetera, a questi super competenti farete firmare il contratto che prevede una pesante penale qualora cambiassero casacca? Guardi, quando hanno accettato la candidatura queste persone con molta umiltà hanno deciso di sottoscrivere tutti gli impegni che abbiamo sottoscritto noi in questi anni, c'è una multa di 100 mila euro per chi cambia casacca, ma giustamente, come si diceva prima, questo rischio c'è, ma queste persone anche per questa ragione le abbiamo conosciute per la loro lealtà alla professione che hanno svolto. Quindi loro firmeranno, ma lei non pensa che succederà. Sì, ma io ho cercato di creare un rapporto umano con tutte queste persone e so che nella loro professione, nella loro storia, sono state leali al loro ambito di ricerca scientifica, al loro ambito professionale, al loro ambito imprenditoriale. E poi diciamo che la Costituzione, lo sappiamo tutti, questo prevede purtroppo il cambio di casacca. No, aggiungo purtroppo, perché io so che non potrete mai farlo di fatto, di imporre una multa a chi cambia partito, però devo ammettere che vista da fuori dagli elettori, chiunque vota una persona in un partito e vederlo cambiare è una roba che fa girare le scatole. Devo dire una cosa su questo, io credo molto nel valore di questa multa perché noi chiediamo di firmarlo, no ma chiediamo di firmarlo e la vogliamo applicare, ma è anche un impegno che vogliamo prendere con gli italiani, se dovessimo andare al governo l'assenza di vincolo di mandato la modifichiamo e facciamo in modo che se un parlamentare entra e vuole cambiare casacca, vuole cambiare partito, sarà tra il nostro pacchetto di interventi che faremo anche perché richiede una modifica costituzionale, quindi ha bisogno di un po' di tempo, ma sia chiaro che chi vuole cambiare forza politica per noi ne ha il diritto ma deve tornare a casa e farsi rileggere, non può restare in Parlamento. Senta Onorevole Di Maio, sono passati circa due settimane da quando si sono concluse le vostre parlamentarie online, quando è che annuncerete, darete tutti i dati? Qui da lei, domani, daremo anche tutti i dati dei risultati delle parlamentarie. Cioè anticipi qualcosa però? Che cosa le devo anticipare? Sono numeri e numeri di dati. Cioè quanti hanno partecipato? Sono numeri e numeri di dati. No, domani mattina conoscerete tutti i dati, domani nel pomeriggio, nella giornata di domani conoscerete tutti i dati che non avevamo ancora pubblicato perché c'erano state delle richieste di ritiro durante le votazioni, abbiamo dovuto verificare perché chi si è ritirato, a chi si è ritirato durante la votazione andava garantita la privacy per una serie di leggi. Ma i quelli che si sono già agitati, hanno annunciato ricorse eccetera eccetera, cosa è successo? Perché lo fanno? Io dico una cosa, chi urla odio razziale, chi usa espressioni omofobe, chi è riscritto alla massoneria, chi ha portato avanti delle azioni nella propria vita indecenti, non si può candidare con noi, quindi noi abbiamo fermato alcune candidature. Anche se hanno avuto i voti dei vostri militanti attivisti online? No, no, perché lei... No, no, solo per capire, è corretto dire e pensare che voi avete fatto un double check, come si dice? No, parliamo di due fasi, c'è stata una fase in entrata in cui c'erano state delle proteste e quella era la fase a cui mi riferivo adesso. C'è stata una fase in uscita in cui abbiamo trovato qualche anomalia e per questa ragione abbiamo deciso di non metterle all'interno delle liste. Di poco che è anomalia. Ma ci potevano essere delle persone che erano iscritte per esempio al registro della massoneria e quindi non potevano starci. Posso dire, stavo meglio tardi che mai per quanto riguarda l'odio in rete eccetera, quando negli anni, nei mesi scorsi alcuni di noi hanno detto e scritto, pigliandosi degli insulti che lei non può immaginare, anzi se li immagina. Ma anche io me li prendo gli insulti. No, 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 non è che li prende solo lei. A me fa piacere quando vi sento dire basta, questa roba deve finire, se uno dice non è d'accordo con noi, non deve essere coperto di insulti, minacce eccetera e lì devo dire che non lei, però nel mondo 5 stelle c'era veramente in tanti. Perché non l'ho a me, era un momento così, i miei miei sono scappati di mano. No, mi permette di dirle una cosa, in questi anni anche quando abbiamo presentato liste alle comunali e alle regionali, se c'era qualche candidato che aveva delle espressioni d'odio, esatto, ma le sto dicendo come esempio, questo metodo noi l'abbiamo sempre usato, anche candidati in corsa venivano esclusi se avevano dei comportamenti sbagliati, poi le dico, io sono uno di quelli che ogni giorno anche in rete riceve da fan di altri partiti o altro, espressioni d'odio, anche minacce di morte mi sono arrivate, quindi non è che sia una cosa che fa il Movimento 5 stelle, noi abbiamo cercato di fermare alcuni comportamenti che non erano assolutamente degni. Senta, onorevole Di Maio, tra questi 50 super competenti, quanti di loro faranno parte del vostro possibile futuro governo, lei ha detto che lo comunicherà prima delle elezioni? Io comunicherò la squadra dei ministri prima, come avevo detto che avremmo presentato una squadra di persone competenti e al posto giusto negli uninominali, questa è la squadra degli uninominali, adesso immaginate quella di governo, manterrò la squadra di presentarla prima delle elezioni. Quanto prima? Prima delle elezioni, questo è l'impegno che prendo per sostenerci, ma non a scatola chiusa, devono sapere anche per una questione, perché ogni ambito di questo paese deve sapere chi è il suo interlocutore, devono conoscere il loro candidato ministro per ogni settore e sarà ancora più bella della squadra degli uninominali, poi spero di potermi avvalere di alcune di queste competenze anche per la squadra di governo. E senta, è vero che il professor, il dottor Fioramonti, economista, sarà il probabile futuro candidato al Ministero dell'Economia? Le dico questo, per i nomi della squadra di governo li conoscerete prima, certo io sono onorato che persone come il professor Fioramonti facciano parte del nostro movimento e delle liste per gli uninominali e domani mattina andremo insieme a Londra ad incontrare gli investitori internazionali, perché c'è tutto un mondo di investitori internazionali che vuole sapere che cosa vogliamo fare in Italia e glielo andremo a spiegare. Posso fare una domanda io, scusami, molto semplice, lei ha parlato di competenze, lei si sente pronta a fare il capo di governo? Guardi che non è una domanda cattiva, tendenziosa, lei è molto giovane, lei ha 30 anni in mezzo di me, lei ha 31 anni, quindi è molto molto giovane, lei ha scelto competenza per i suoi parlamentari, sta parlando di competenza per i suoi ministri, lei è il leader di un partito, la mia domanda è proprio, non è cattiva, malizio, è proprio una domanda sincera, a me tremerebbero le gambe, ma non a me Beppe Severnini, a chiunque credo, io la vedo molto tranquillo, magari tremano anche lei le gambe, non ha mai, non ha amministrato, non ha fatto l'amministratore, quindi lei si sente pronto? Vede, questa risposta deve necessariamente prevedere una considerazione preliminare, che è, io non credo di essere l'uomo solo al comando, dico agli italiani anche, non ci votate se pensate di che io sia l'uomo solo al comando, credo molto nel valore della squadra, quello che mi rassicura è che in questi giorni tante persone di profili eccellenti si sono avvicinate e si sono messi in gioco, se ne avvicineranno altre e questo paese lo potremo cambiare se si farà un gioco di squadra sempre al governo, in Parlamento. Traduco, si sente pronto perché dice che c'è persone intorno ad altre, giusto? Credo che a capo di una squadra di governo ci debba essere un indirizzo politico ben preciso di quello che si deve fare e io mi circonderò delle persone migliori che possano ricoprire i ruoli di governo, che significa sempre metterci testa, quindi competenza, ma anche cuore, che significa chiedersi le persone che effetti avranno sulle persone le leggi che si fanno, le riforme che si fanno. Questo è molto importante, altrimenti rischiamo di avere i super tecnici, a noi servono persone che mettano testa e cuore. Adesso ci arriviamo, prima però ho due domande da farle, uno, la prima, Renzi ha detto che sta sempre aspettando che lei faccia un confronto in tv dopo che lei Di Maio lo ha sfidato, vuole venire qui con noi a fare la sfida con Renzi? Io sono disponibilissimo a confrontarmi con tutti i candidati alla presidenza del Consiglio e Ministri delle altre forze politiche, se lei vorrà ospitarlo ci saremo come incontro, io ci sarò con tutti gli altri candidati. Mi permetto però di dire una cosa. Quindi anche con Renzi mi sta dicendo sì? Anche con Renzi, ovviamente se le forze politiche ci fanno sapere anche se veramente quelli sono i loro candidati alla presidenza del Consiglio e Ministri, perché Renzi dice a me sta bene anche Gentiloni, Berlusconi ineleggibile. E poi un'altra cosa su Berlusconi, io posso anche confrontarmi con lui, ma anche con Renzi, però queste persone stanno promettendo di cambiare il paese dopo averlo governato per 5, 20 anni. Mi riesce anche difficile avere di fronte un interlocutore che abbia la credibilità di dire voglio cambiare il paese, però negli ultimi 20 anni che ho governato l'ho peggiorato. Renzi le dirà ho provato a governare o ho governato negli ultimi 5 anni, comunque 5 anni di governo qui da PD e poi ve la smazzerete tra di voi. Lo sfidante deve avere uno sfidato, sennò cosa fa tutto da solo? No, 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 ma non era per snobbare nessuno, però questo è per dire che la campagna per le politiche che adesso durerà i prossimi 31 giorni, non tanto si giocherà sui programmi, ma sui programmi uniti alla credibilità di chi li propone, perché se non fai quello che dici, se non hai fatto quello che dicevi quando governavi, è molto complicato poi starti dietro quando mi enunci le cose che farai. Con l'economista Fioramonti lei domani andrà alla City di Londra, ci ha appena detto dieci minuti fa. Allora, siccome oggi il Financial Times scrive che un'alleanza 5 Stelle-Lega è possibile sulla base dei programmi e per questo sarebbe uno scenario da infarto per l'Europa e gli investitori internazionali, che cosa andrà a dire di rassicurante domani alla City di Londra? Che il nostro obiettivo in questo momento è non lasciare il Paese nel caos, questo è molto importante perché hanno fatto una legge elettorale che tende a produrre caos, perché era nata per far alleare Renzi e Berlusconi, ma adesso Renzi sta crollando e Berlusconi è un partito del 16%. Ma lei dovrà spiegare come raggiungerà questo obiettivo. Questo vuol dire che se la sera delle elezioni dovessimo aver raggiunto il 40%, allora avremo i numeri per governare da soli, ma se non dovessimo aver raggiunto quel numero, noi faremo un appello pubblico a tutte le forze politiche in Parlamento, gli chiederemo di convergere su dei temi, io la squadra l'avrò già presentata prima delle elezioni e è singolare che il Financial Times rabbrividisca su un'alleanza Movimento 5 Stelle Lega che non è nelle mie intenzioni in questo momento. Ma lei lo esclude? Io personalmente voglio vedere la consistenza dei gruppi e sia chiaro che non si parla di alleanze, faremo un appello pubblico e diremo questi sono i nostri 20 punti, voi volete aggiungere altre priorità per gli italiani? Bene, allora si fa una maggioranza intorno ad un governo che noi abbiamo proposto e diamo un governo al Paese, è importante questo discorso. Ma in questo governo dovrete mettere anche qualche suggerimento, qualche candidato di quelli che vi sosterranno, no? Io voglio individuare una squadra di governo che sia patrimonio dell'Italia, non del Movimento, che cerchi di comunicare a tutto il Paese, non che sia il punto di caduta sulle poltrone per i partiti, però il Financial Times dice una cosa, rabbrividisce per l'alleanza Movimento 5 Stelle Lega, ma non rabbrividisce del fatto che la Lega sia dentro la coalizione di Berlusconi, il cui leader va a incontrare il Partito Popolare Europeo e dice garantiremo stabilità più Europa, in pancia il partito che fa accordi con l'Ale Pen, con Alternative for Deutschland, con i partiti xenofobi europei, è strano che non rabbrividisca per questo, questo lo dico anche all'ambasciata straniere quando li incontro, perché non siete preoccupati di un partito che fa accordi con i vostri principali oppositori nei vostri partiti quando sta nella coalizione? E cosa le rispondono? No, vabbè, gli incontri sono privati, non voglio assolutamente danneggiare gli ambasciatori, però quello che ho capito è che tutti hanno capito che Berlusconi ha addomesticato Salvini, gli ha fatto rinunciare ai suoi grandi temi e gli ha regalato qualche seggio in più, questo è quello che ho capito a livello internazionale. Siccome tu stesso su New York Times hai scritto qualche novembre, mi pare, assolutamente la stessa cosa, che a novembre lui sei molto preoccupato, perché eri in America e sei molto arrabbiato. No, non ero arrabbiato con te, ero arrabbiato con chi diceva che il Financial Times aveva scritto contro di me, eri tu che avevi scritto contro di me. Io scrivo su New York Times tutti i mesi da cinque anni, quindi il fatto che scriva un italiano non è che non mi pare. Ma che cosa ti preoccupa di Di Maio? Allora, io avevo scritto, c'è una gag di Crozza fantastica sul tuo articolo. Che è andato avanti, indietro, non ho ben capito, come essere preso in giro da Crozza è sempre un onore. Allora, il punto che facevo, che poi è questo, lo stesso del Financial Times, a novembre l'avevamo fatto noi sul New York Times, era questo qua, che guardando alcune cose dei vostri programmi le similitudini saltano agli occhi. La diffidenza verso l'Europa, certi toni sull'immigrazione, la simpatia per Putin, che è una cosa che è abbastanza sorprendente, potrei andare avanti. E quindi, non è che... Ebbè, abbiamo bisogno di sentirvelo dire, mettiamola così. Scusi, è di sentirvelo dire, noi con la Lega non ci vogliamo alleare. Perché anche lei adesso, la domanda di Lilli, ci ha girato un po' di... Insomma, non lo esclude, dipende dalla forza che avrà... Io escludo alleanze. Quello che voglio fare è seguire una prassi istituzionale, se non dovessimo avere la maggioranza, per dire ai gruppi parlamentari, questi sono i temi, si lavora con la democrazia parlamentare mettendo al centro i temi. Io le alleanze non le ho fatte prima mai e non le voglio fare dopo. Però, posso dire una cosa... Ma sembra più una questione, diciamo, di terminologie, perché poi per far funzionare un governo dovrete avere un accordo di massima, dovrete avere... Lo chiami come vuole. È importante perché adesso, per esempio, anche il centro-destra e il centro-sinistra si sono alleati, a parte Grasso contro Renzi, no? Lorenzin va con Renzi e da quest'altra parte Salvini, Meloni, Berlusconi. Ma questi signori qui litigano ogni giorno sui programmi. Voi siete da soli, quindi con chi volete litigare, tra di voi potete al massimo litigare. Queste si chiamano alleanze. Il problema è che non sono alleanze, sono delle ammucchiate che, come litigano prima, litigheranno dopo. Quello che vogliamo fare noi è dire, i temi dobbiamo chiarire, per metterci al lavoro nel 2018, nel 2019. E come fanno in Germania quando fanno le grandi coalizioni. Se vogliamo dare la fiducia al nostro governo, partiamo e ci mettiamo in marcia per migliorare e fare quelle cose da 30 anni che non si fanno in Italia. Posso usare tre temi che ha detto, se vengono importanti per... Sì, no, le voglio solo fare una domanda rapidissima. Il modello potrebbe essere quello tedesco delle grandi coalizioni, non chiamando le grandi coalizioni, cioè che ci si siede con chi ci sta e si definisce minuziosamente con tutti i dettagli con lui nel ruolo della Merkel. Quello che si vuole fare, quello che non si vuole fare, si procederà poi nel governo di un paese. L'importante è convergere sui temi. Invece nella grande coalizione tedesca, la differenza è che si scelgono anche i ministri. Questo scambio di poltrone noi non lo vogliamo portare avanti. Ma scambio di poltrone chi li sceglie, questi ministri? Io presenterò la squadra. Prima è come le ho detto, dovrà essere patrimonio dell'Italia. Voglio presentare dei nomi di alto profilo. Vabbè, se le chiedono però di cambiare il ministro della scuola... Vuol dire che torneremo indietro a quello che è successo negli ultimi vent'anni, dove Alfano con tre senatori faceva tre volte il ministro e tre ministri diversi. Questa roba gli italiani non ne possono più. Ma se la Lega l'appoggia non fa mica gratis. Voglio dire, noi vogliamo due ministeri per fare certe cose. Ma gratis. Qui tutti dicono di volere il bene del paese. Poi il giorno dopo vogliono le poltrone. Invece io gli voglio dire, ammettiamoci alla prova, vediamo se veramente volete il bene del paese. Prima lei citava... Ma non è una questione però di poltrone. Mi scusi, Di Maio e in tutti... No, è molto importante questa cosa qui. Prima Sevegni citava dei temi che potevano essere compatibili. Mi scusi, poi adesso vediamo i tre temi. Voglio solo chiarire questo punto. Cioè le vostre non sono poltrone, lo sono solo quelle degli altri. No, io sto dicendo che se il Movimento 5 Stelle dovesse essere la prima forza politica del paese, si prenderà la responsabilità di dare un'opportunità a tutto l'emiciclo istituzionale di formare un governo che sarà nominato tra gli altri profili che indicheremo prima delle elezioni e di portare avanti un programma condiviso in cui si condividono i valori. Non sto parlando di ministeri, però sto dicendo aggiungete le vostre priorità, le nostre. Ma che attuerà questo governo, questo programma condiviso ampiamente, sono degli esseri umani che si chiamano ministri, sottosegretari, eccetera, eccetera. Su questi dovrete trovare un compromesso. Lui sta dicendo che questi sono quelli che presentano loro. Quindi se altro non sto dicendo che non ci saranno ministri, anzi sto dicendo che ci saranno ministri di alto profilo come le persone che ho presentato oggi e che potranno mettersi al lavoro sugli indirizzi programmatici che avrà dato il Parlamento insieme. Prima lei parlava di tre temi, come per esempio dei temi compatibili tra noi e la Lega. Ma se lei va a vedere adesso i programmi delle quattro forze politiche... Lei ha cambiato idea due o tre volte. Non l'ha detto Crozza. No, no, no. Io ho detto che è cambiato lo scenario. Però vado a vedere per esempio programma PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. Il 3% ce l'hanno tutti quanti. Se andiamo a vedere il tema legato per esempio alla questione adesso dell'Unione Europea, tutti sono critici sull'Unione Europea. Che cosa sto dicendo? Non che tutti quanti diciamo le stesse cose. Sto dicendo che a volte si prendono dei temi e si dice la Lega è eurocritica, il Movimento 5 Stelle è eurocritico, Forza Italia e PD no, quando invece l'abbiamo visto come Renzi, come Berlusconi hanno criticato fortemente l'Unione Europea. La differenza e la credibilità che questa gente ha già governato dice le stesse cose nostre, ma non le ha fatte quando governava. Ma non ha fatto campagna per un referendum sull'euro, per esempio. No, no, no. Voi avete cambiato su questo opinione e quindi andiamo avanti. L'avete sentito il Presidente del Consiglio allora a Renzi dire vi diamo 20 miliardi, ce ne rientrano solo 10, allora non ve li diamo più. Ma certo, è andato in Europa come volete fare anche voi, a battere i pugni sul tavolo per ottenere il tutto possibile. E' una considerazione valida, solo che Renzi non ha la credibilità perché poteva portarla avanti quella misura e l'ha solo detta e non la fa. Senta, Norevo Di Maio, telegrafico, gli chiedo su alcuni punti del vostro governo. Voi proponete di abolire la legge Fornero. A che età fisserete l'età pensionale? Noi vogliamo superare la legge Fornero gradualmente utilizzando quota 41 e quota 100. Significa che se hai fatto 41 anni di lavoro devi andare in pensione. Ma la somma anagrafica e la somma dell'età contributiva non deve superare comunque 100 in modo tale che tu possa andare ad un certo punto in pensione. Questo significa legare anche l'età pensionabile a quanto si è lavorato, ma anche all'età anagrafica perché oggi abbiamo operai nell'edilizia che stanno a 40 metri di altezza, a 40 gradi, a 67 anni per colpa della legge Fornero. Che è anche però già previsto oggi, no? Ci sono le categorie esentate, eccetera. Ci sono state affrontate alcune questioni sulle categorie usuranti, ma non tutte. Senta, voi dite che tutto questo costa circa 11 miliardi mentre gli esperti che stanno cercando di fare un po' i conti in tasca a tutti i partiti e ai loro programmi economici dicono che costerebbe 20-25 miliardi. Da dove li prendiamo questi soldi? Io penso una cosa. Prima di tutto non ci rimetteremo al governo a lavorare sulla spending review perché ci sono stati validi professionisti che in questi anni hanno lavorato come Cottarelli, Bondi, ci hanno fatto degli ottimi piani e non diciamo di prenderli in toto ma da lì possiamo attingere per cominciare a tagliare 30 miliardi di euro di spendi. Se loro stessi oggi dicono meno. Va bene. Questo dipende anche dalla forza politica che si mette a tagliare, per esempio, le partecipate inutili perché in questi anni le resistenze erano dei sindaci, dei presidenti di regione, lo stesso partito del Presidente del Consiglio e dicevano le partecipate non si tagliano perché mi togli i voti quelli sono serbatoi di voti. Guardi che dovrà scontentare tanta gente e tra questa tanta gente avrete anche dei vostri elettori perché statisticamente uno su tre è vostro. Lei è preparato a questo passaggio mentale perché tagliare la spesa, i privilegi, sembra che i privilegi ripigliano sempre gli altri. I privilegi li prendono gli elettori di tutti i partiti. Qualche volta, perdonami, veramente mi piacerebbe qualche volta sentirvi dire che non c'è solo una misteriosa casta che pure esiste, l'elite che pure esistono, ma esistono dei comportamenti italiani, compresi quello di andare a attaccare, a prendere soldi dove non si devono e così via, che voi dovreste dire e parlare alla nazione e dire questa roba qua non dovete più farla, anche se siete i nostri elettori. Questa roba qui non ve l'ho ancora sentita dire. Posso dirle una cosa? Vete la sentite così, misteriosa. Io credo che ci sia un grande problema perché quando si attaccano i privilegi si rischia anche di colpire persone che sono una posizione di debolezza sociale intendo, ma quelle persone io le voglio aiutare con uno strumento di reinserimento lavorativo che gli dia il diritto di formarsi per un nuovo lavoro e non la concessione di un politico che lo assume in una partecipata, perché anche quelle persone hanno serie difficoltà a inseguire il lavoro concesso da un politico in un ente che magari non è proprio utile allo Stato. Questo è un punto, ma poi voglio dire un'altra cosa. Non è solo la spending review. L'Italia ha di tax expenditures decine e decine di miliardi che si spendono 16 miliardi di euro di incentivi a carbon fossili, miliardi di euro alle banche. E poi c'è un'altra cosa che voglio dire ancora. Finito la spending review, finito il rimaneggiamento delle detrazioni e di quelli che sono gli incentivi a determinati settori come quelli che ho citato prima, poi non dobbiamo avere paura di fare investimenti ad alto moltiplicatore, anche in deficit, perché la Spagna lo ha fatto, la Francia lo ha fatto, solo noi non lo abbiamo fatto. Mi dica quanto deficit volete fare, perché i conti che appunto stanno facendo gli esperti sul vostro programma economico arriva a 125 miliardi di euro, quindi una somma astronomica. Prima di tutto voi... Il vostro conti, lo dico, ci sono circa 85 miliardi di euro. Ecco, nelle case dello Stato non ce n'è, né per la prima né per la seconda proposta. No, ne ho citato molti di più, ne ho citati molti di più. Mi dica quanto... 30, 16, a diversi miliardi per le banche. Quanto deficit volete fare? Dobbiamo ragionare all'inverso. Prima finiamo i soldi della spending review, il rimaneggiamento del tax expenditures, la banca pubblica degli investimenti che mette insieme già gli istituti di credito che esistono in Italia a nome dello Stato ma non hanno una regia. Dopodiché interveniamo con gli investimenti in deficit ma solo ad alto moltiplicatore, infrastrutture, energia, sicurezza del territorio per ripagare il debito. Io voglio fare un parco. Quindi, no, mi scusi, se lei dice prima fate, tagliate le spese dei traibili, quello che non riusciamo a raggiungere da lì attingiamo dal deficit. La spending review mi verrebbe da dire siamo al carissimo amico nel senso che perché come lei sa, per esempio sulla spending review tutti ci provano e ci hanno provato con persone ipercompetenti e poi hanno fatto qualcosa. Infatti i governi non gli hanno dato retta. No, hanno fatto... E poi c'è il punto. Ma è questo il punto. O però, quando era il momento storico in cui bisognava decidere se eliminare le spese inutili o il commissario alla spending review hanno eliminato il commissario alla spending review è una questione di volontà politica. Quello che voglio dire è che ci vorrà molto tempo per fare questo deficit su infrastrutture. Guardi, ho imparato in questi anni anche da... rappresentando le istituzioni dello Stato. In Italia tutto si può fare. Ha bisogno di un cronoprogramma. Noi crediamo nel fatto che il cronoprogramma previsto anche dal piano Cottarelli sulle partecipate e dai piani di spending review siano dei programmi credibili per recuperare quei miliardi di euro. Oggi il deficit è all'1,6% voi volete arrivare almeno al 3%, corretto? Ma io penso che ci possa essere bisogno o di più o di meno in base a quello che riusciremo a recuperare effettivo il primo anno di governo. E l'articolo 18 lo volete reintrodurre? Faccio una premessa. Noi abbiamo il 90%... Sì o no? Mi dica solo sì o no? Prima di tutto, sì o no... Noi giornalisti faccio una premessa che si errorizza. No, perché siamo in ritardissimo. Arrivo a sì o no, ma il punto dell'articolo 18 è che il 95% delle imprese sotto i 15 dipendenti non lo devono avere e non lo hanno avuto e non gli interessa, perché sono imprese che lavorano come una famiglia. Quindi la risposta è che non è una priorità. No, la nostra volontà è reinserire l'articolo 18 ma dai 15 dipendenti in su. Cioè per quella fascia di imprese che non rappresentano la maggioranza del nostro tessuto. Quindi com'era? Lo volete reintrodurre. Gli 80 euro di bonus per i redditi più bassi? Noi li inglobiamo nella nostra riforma IRPEF. Cioè noi arriveremo con la... Ma intanto, finché avrete inglobato... No, no, no. Li date o non li date? Nella rimodulazione dell'IRPEF che noi facciamo inglobiamo gli 80 euro ma aumentiamo il guadagno per le famiglie che va oltre i 100... Inglobate e togliete questi 80 euro perché con questo... Daremo di più sostanzialmente con la revisione... Ma non sarà un bonus, sarà una rivisitazione dell'aliquota IRPEF un po' più strutturale. Portando la nota ex aria a 26 mila euro per le famiglie e 10 mila per i singoli. Allora, forse l'avrete già capito un po' da soli. Alla domanda perché il Movimento 5 Stelle secondo tutti i sondaggi è il primo partito? Ce lo spiega Paolo Pagliaro, guardate. A meno di 5 settimane dal voto il Movimento 5 Stelle si conferma con il 29,5% primo partito con oltre 6 punti di vantaggio sul PD restano stabili Forza Italia al 16% e la Lega al 14 seguono Liberi uguali al 6 e Fratelli d'Italia al 4,8% e in sintesi lo scenario che emerge dal barometro politico Demopolis condotto per 8,5 nelle ultime 24 ore. Il Movimento 5 Stelle è più debole al nord con il 23%, supera la media nazionale nelle regioni centrali con il 32% e vede crescere ulteriormente il proprio consenso al sud e nelle isole dove raggiunge il 37%. L'istituto diretto da Pietro Vento ha chiesto agli intervistati un'opinione sul nuovo corso del Movimento. Il 78% degli elettori potenziali valuta positivamente la scelta di estendere la possibilità di candidarsi in Parlamento anche a esponenti della società civile non iscritti precedentemente. In ogni caso, in assenza della possibilità di un voto disgiunto, i due terzi degli italiani affermano che alle politiche del 4 marzo voteranno soprattutto il partito. Il 25% pensa invece di effettuare una scelta guardando ai candidati in lista nei propri collegi. Il sondaggio di Demopolis ha indagato anche sulle ragioni del voto al Movimento 5 Stelle. Al primo posto, per il 65% degli elettori potenziali, c'è l'auspicio di un governo di cambiamento. Il 58% vuole che siano superate le vecchie logiche di potere. Il 43% infine prende in considerazione un voto ai 5 Stelle per garantire trasparenza e controllo in Parlamento. Particolarmente significative risultano anche le differenze anagrafiche nel consenso al Movimento guidato da Di Maio. Rispetto a una media nazionale che sfiora il 30%, si conferma una minore forza nella fascia degli over 60 con i 5 Stelle al 21%. Il consenso cresce al 40% nella fascia d'età compresa tra i 30 e i 44 anni. Più complessa per il Movimento 5 Stelle così come per tutte le altre forze politiche è l'acquisizione del voto dei giovanissimi tra i quali cresce rispetto al passato la tentazione di non recarsi alle urne. I dati che emergono dall'indagine Demopolis confermano le preoccupazioni espresse dal Capo dello Stato. Il 47%, quindi quasi un giovane su due tra quanti hanno meno di 25 anni appare deciso a non votare alle prossime politiche. Onorevole Di Maio un governo sostenuto dai 5 Stelle è possibile solo con Di Maio Premier? Sì, perché noi non vogliamo partecipare al fenomeno degli ultimi anni in cui i cittadini votavano Berlusconi e poi avevano Monti o votavano Bersani e si ritrovavano Renzi, Gentiloni o Letta. Quindi su questo saremo molto leali con gli italiani e non gli chiederemo di votare a scatola chiusa per questo che presentiamo una squadra di governo prima e non vogliamo fare scherzetti i giorni dopo. Quindi se voi in qualche modo sosterrete un governo insieme a la Lega o al PD anche perché no Liberi uguali Liberi uguali Il Presidente del Consiglio deve essere Luigi Di Maio Quello che le ho spiegato prima è proprio l'approccio opposto è dire noi abbiamo presentato la squadra di governo non ci sono i numeri per governare da soli? Troviamo un punto di caduta sui temi ma dimenticatevi i giochi di potere i giochi di poltrona Che farete solo voi? No Perché noi li presentiamo prima quindi gli italiani quando ci voteranno voteranno anche quella squadra di governo sarà la prima volta nella storia del Paese che succede una cosa del genere Se Mattarella le dà un incarico esplorativo lei farà lo streaming degli incontri con gli altri partiti così come aveva fatto Bersani nel 2013? Io credo che al Presidente Mattarella comunque si debba formulare già una proposta concreta perché io la sera delle elezioni parlo dell'appello pubblico? Perché tra la sera delle elezioni i giorni di elezione del Presidente della Camera e del Senato cioè intorno al 23 marzo in quei giorni lì noi gruppi parlamentari dobbiamo avere già la maturità di trovare la quadra andare dal Presidente Mattarella e proporre la soluzione e in ogni caso se a quell'appello pubblico dovessero rispondere le forze politiche noi faremo degli incontri ad hoc speriamo il più trasparenti possibile nel senso utilizziamo lo streaming ma certo ormai tutti utilizzano lo streaming da quando abbiamo pensato noi per la verità per la verità non lo utilizza più nessuno neanche voi non è vero assolutamente quando le cose si fanno delicate e difficili lo streaming possibilmente non lo fa l'abbiamo sempre utilizzato nelle assemblee di gruppo non lo utilizziamo per fare la strategia parlamentare è normale che non lo si utilizzi nessun gruppo lo usa ma tutti hanno cominciato a fare i congressi in streaming tutti quanti si sono lanciati l'incontro con i partiti li farete in streaming Beppe volevo far pesare i capelli bianchi l'onorevole Di Maio studiatevi le delusioni degli italiani guardate io ho parecchi anni più di lì ho visto la gente molti italiani illudersi per Berlusconi illudersi per la Lega illudersi per il PD se questo è il vostro momento e mi raccomando andiamo tutti a votare qualunque cosa a stenersi è una pessima idea mi associo a quello che diceva Pagliaro nel suo ottimo intervento come al solito ma mi raccomando studiatevi le delusioni perché altrimenti rischiate di essere delusi voi e di deludere tutti i vostri elettori perché il momento dello Stato nascente è bellissimo e fa pensare a 31 anni di fare il capo di governo però occhio perché le delusioni poi arrivano sappia che questa è la responsabilità che sento di più sulle spalle quella di non deludere gli italiani alle spalle forti alle spalle forti? vedremo grazie grazie Novevole Di Maio grazie Beppe Severini grazie